...amico Riccitiello, Lello Riccitiello e tutto lo staff, poi dobbiamo ringraziare coloro che hanno aderito a questa gran bella festa perché l'organizzazione principale è Gruppo Migliaccio Mia Carli, facciamo un applauso a Gruppo Migliaccio con il Barcioli, Zio Michele e poi salutiamo Rosy Becks di Migliaccio Francesco, poi Luis Meat Pub di Nicola Silvestri, poi ci sta The Stasio Protection di Angelo Di Stasio che lo salutiamo tutto lo staff, il Drago del Torrone di Grazioso Giuseppe, poi c'è la pasticceria Iannacone Poi c'è Mario PM e tutti quanti, allora dicevo adesso un momento ben importante e particolare perché arriva un grande artista della canzone napoletana, è bravo, pimpante, simpatico ma voglio sentire un po' le mani, dai tutti insieme, ve lo faccio presentare a voi, è il momento di Marco Setola Buonasera Casandrino, che bello, che bello, voglio sentire un po' le mani, le mani di Casandrino, uno, due, tre Ok, ok, vai Mestro, vai, mi raccomando, le mani, Mestro, siamo pronti con la base? Però voglio sentire un po' le mani di Casandrino Buonasera Casandrino Buonasera Casandrino Grazie a tutti.